Un saluto ben trovati alla voce delle istituzioni, ospite in studio quest'oggi Roberto Padrini, il presidente della provincia di Belluno, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Iniziamo naturalmente parlando di coronavirus, anche la provincia di Belluno, ahimè, come tutta Italia è stata colpita da questo fenomeno, come è stata vissuta da noi? È stata vissuta con grande difficoltà, penso da parte di tutti, anche personalmente, perché sono state giornate ripensandoci molto complicate, soprattutto anche per le responsabilità che abbiamo avuto. Devo dire che alla fine, tutto sommato, la provincia è uscita in maniera abbastanza buona, a parte alcuni focolai nelle case di riposo, dove purtroppo ci sono verificate diverse morti. E questo ovviamente è la conseguenza più dolorosa di questo percorso che è stato fatto e che mi auguro sia nella parte sua intanto più forte passato. Qui devo dire che i cittadini bellunesi hanno dimostrato comunque un grande senso di responsabilità e complessivamente devo dire che c'è stato un buon comportamento e una risposta positiva anche alle restrizioni che sono state imposte dalla legge. Dobbiamo tenere comunque alta l'attenzione e soprattutto mantenere un comportamento che sia conscio di quelle che sono le limitazioni che ancora ci sono, perché questo è un virus che difficilmente se ne andrà prima del vaccino. E quindi dobbiamo mantenere questi comportamenti. Un ringraziamento poi doveroso lo voglio fare a tutti i volontari, in particolare della nostra protezione civile e dell'ANA, che veramente hanno dedicato giornate intere mettendosi a disposizione di chi ne aveva bisogno. Devo dire che è stato fatto un lavoro straordinario e quindi penso che questa sia l'occasione più giusta per ringraziarli, come ovviamente tutti gli operatori sanitari e medici, che devo dire sarebbero da premio Nobel, perché sono veramente loro coloro i quali hanno vissuto sulla propria pelle queste giornate così drammatiche. Lei durante anche alcuni appelli che ha registrato qui a Telebelluno parlava di questo virus anche come un'occasione di riscoprire le bellezze che ci circondano. Secondo lei questo sta succedendo? Può succedere? Noi dopo ci dimentichiamo sempre spesso quando, per fortuna, come dico, il tempo allevia il dolore e quindi anche ci si dimentica. Devo dire che ogni tanto ripensando, soprattutto anche parlando con qualcuno, devo dire che noi siamo sempre stati fortunati, perché comunque abbiamo potuto vivere queste giornate in lockdown di fronte ad un paesaggio straordinario. E devo dire che anche dal punto di vista di prospettiva turistica, devo dire che la montagna è diventata veramente una meta e lo vediamo quotidianamente, soprattutto nei fini di settimana, di quanta gente si riversa le nostre montagne. Quindi devo dire che c'è ancora qualcosa di positivo che è rimasto e questa positività la dobbiamo cogliere e soprattutto trasformarla in una ripresa, in una ripartenza che sicuramente all'inizio non è stata facile, ma che devo dire in queste ultime settimane sta ritornando e questo mi fa anche ben sperare per il futuro. Restiamo in tema di montagna, parlando di fauna, un argomento delicato, parlando naturalmente dei cervi e di tutti quegli animali che in qualche modo disturbano o interferiscono con l'attività degli agricoltori, eccetera. C'è un piano abbattimenti? Ce ne vuoi parlare? Devo dire che questo è un tema che mi ha fatto anche abbastanza male, nel senso che ho ricevuto diverse critiche, anche molto pesanti, con insulti, da parte di persone che non conosco e che animalisti, ambientalisti, i quali ovviamente ci hanno fatto anche star male sotto alcuni punti di vista, perché questo nostro piano che era stato concordato con l'ISPRA, che è l'istituto con il quale ci si raffronta per quando si mettono insieme questi piani di abbattimento, Devo dire che è fatto semplicemente per tutelare il nostro territorio, tutelare anche il mondo dell'agricoltura, perché questo numero di ungulati sta salendo in maniera esponenziale, quindi c'è bisogno di trovare una soluzione per calmerarli. Devo dire che il nostro è un'operazione, ripeto, che ha solamente quella finalità, non sicuramente di provocare morti in più, creando disagi. Noi vogliamo semplicemente tutelare il territorio e questo piano di abbattimento rientra in questo. Fra l'altro è stato concordato con tutti i distretti, con tutto il mondo anche degli agricoltori, ma anche con gli stessi animalisti, quindi devo dire che è un tema che fa male, senza ombra di dubbi. Di che numeri parliamo? Parliamo di circa 3.000 cervi e questo è un numero sicuramente elevato, però devo dire che c'è stata una crescita negli ultimi 20 anni veramente notevole, e quindi c'è bisogno di trovare un modo per intervenire. Questa è una modalità, ripeto, concordata con tutti quelli che sono i portatori di interesse, quindi sono convinto che questa sia una cosa giusta. Dandone così tanta visibilità siamo stati ovviamente a rischio attacchi, gli attacchi sono arrivati, adesso stiamo anche valutando come tutelarci. Parliamo di economia, c'è una manovra da 13 milioni da parte della provincia, di cosa si tratta? Ma noi abbiamo approvato nell'ultimo Consiglio Provinciale, soprattutto anche dopo aver avuto l'ok da parte dell'Assemblea di Sindaci, degli interventi importanti, noi abbiamo un avanzo di amministrazione consistente e quindi per gli investimenti abbiamo deciso di dare 3 milioni di euro ai comuni, soprattutto quelli di seconda e terza fascia, un modo per riequilibrare quello che è un po' il gap con i cosiddetti comuni confinanti, che ovviamente prendono i 500 mila euro dei fondi di confine, quindi per noi era importante questa manovra per cercare un po' di venire incontro anche gli altri comuni. Dopodiché abbiamo dato 3 milioni di euro alle unioni montane, abbiamo confinanziato alcuni interventi, alcune opere proprio per i fondi di confine, per creare dei progetti d'area vasta che possono riguardare soprattutto la ripresa post-lockdown. Nell'ultimo comitato di indirizzo proprio dei fondi di confine sono stati stanziati 8 milioni e mezzo di euro proprio per interventi post-covid, sempre su investimenti. Poi abbiamo dato altre cifre minori, sicuramente una importante sulla difesa del suolo, abbiamo messo un milione, ma ce ne serviranno molti altri anche alla luce degli ultimi eventi meteorologici che hanno colpito in particolare la Gordina, per i quali ovviamente c'è bisogno di somme urgenze e quindi di investimenti da fare. Penso che questo sia una modalità per cercare di fare in modo di far comprendere che la provincia è ancora un punto di riferimento per i nostri territori e per gli enti locali, quindi anche questa manovra aveva questa finalità. Parliamo di viabilità, un tema importante, in realtà per quanto riguarda gli interventi che riguardano Cortina e le Olimpiadi, parleremo in un'altra sede, qui però vogliamo discutere di alcuni interventi in provincia. La provincia, diciamo che il tema delle infrastrutture è il tema del nostro territorio, purtroppo lì noi paghiamo una situazione piuttosto negativa e quindi c'è bisogno di fare investimenti. Abbiamo fatto un accordo con Veneto Strade per cercare di implementare quella che è la rete di strade provinciali e anche regionali e devo dire che abbiamo messo sul piatto diverse risorse che provengono in parte dallo Stato e in parte anche abbiamo chiuso una transazione con Veneto Strade che è praticamente da circa 6 milioni e 100 mila euro di risorse che possiamo impiegare in investimenti in opere proprio sul nostro territorio. Dopodiché ci sono tutte quelle legate al piano ANAS e quindi al piano Mondiali che si aggiunge al piano Olimpiadi, devo dire che complessivamente il nostro territorio, che ci mettiamo dentro anche l'elettrificazione della ferrovia, diciamo che nel giro dei prossimi anni avremo circa un miliardo di euro di investimenti sul territorio provinciale. È un'occasione unica, abbiamo sempre detto, è una grandissima opportunità. Io mi auguro che oltre alle opere che sono già state messe in cantiere, se riusciamo a risparmiare qualche soldo, lo possiamo investire anche in ulteriori opere, soprattutto nella parte della provincia, quella che ovviamente non è coinvolta dalle opere premondiali e diciamo preolimpiche. E quindi, perché ci sono diverse altre zone, tipo la Gordino, tipo il Feltrino, che hanno bisogno di investimenti importanti per completare delle opere e migliorare quella che è la viabilità della provincia di Belluno. Restiamo dunque in tema con questi grandi eventi. Lei cosa ne pensa? Sarà un'opportunità o sarà un boomerang? Il problema sono sicuramente i mondiali di sci. C'era questa opportunità che è stata messa sul piatto di rinviarli al 2022. Sarebbe stata forse una maniera per prepararci al meglio e per essere anche tranquilli dal punto di vista del ritorno del Covid, perché il rischio è quello che si arrivi ad una cancellazione, perché se il virus, soprattutto nei mesi invernali, riprende forma, diventa un po' un problema. Quindi io mi auguro che tutto possa andare per il verso giusto. Sicuramente ci sarà un problema dal punto di vista economico, anche perché alcuni sponsor stanno riducendo quello che è l'investimento. E quindi devo dire che in queste giornate stiamo cercando di lavorare su un piano, diciamo così, strategico di budget, inferiore rispetto al passato, anche perché ci saranno anche delle limitazioni per quanto riguarda i visitatori, con i quali vorranno assistere alle gare. Si parla di almeno un dimezzamento dai 12 mila ai circa 6 mila possibili. E quindi questo anche dal punto di vista economico è una perdita. Stiamo lavorando, ripeto, con la Fondazione Cortina per trovare una soluzione. Per quanto riguarda le Olimpiadi è partita, diciamo così, la macchina organizzativa. Io questo sono convintissimo sia una opportunità straordinaria e unica per il nostro territorio, che dobbiamo cogliere sia dal punto di vista degli investimenti infrastrutturali, ma che soprattutto non deve essere legata esclusivamente alla crescita di Cortina, ma tutta la montagna belunese. Abbiamo parlato di strade, le strade però naturalmente vanno percorse. Il coronavirus ha un po' rovinato tutto il settore dei trasporti pubblici, parlo naturalmente di Dolomiti Bus. Qual è il futuro per quanto riguarda i mesi a venire? Il trasporto pubblico è sicuramente stato uno dei settori che hanno patito di più il coronavirus. Devo dire che la nostra società, la Dolomiti Bus, di cui la provincia ha il 60% di quote, ne ha fatto sicuramente le spese, ma soprattutto le spese le hanno fatte i nostri bellunesi, perché abbiamo dovuto tagliare tutta una serie di corse. Devo dire che anche lì abbiamo ricevuto tantissime richieste di ripristinare alcune corse, perché ovviamente la montagna non può perdere un servizio che è indispensabile, soprattutto nelle aree interne, quelle più difficilmente collegabili. Devo dire che siamo riusciti in questi giorni proprio, nell'ultima assemblea che si è svolta la settimana scorsa, di far ripartire il sistema un po' di più. Noi abbiamo in questo momento il 55% delle corse ripristinate rispetto al piano invernale, scusate, estivo. Adesso lo implementeremo per arrivare almeno al 70-80% nel periodo di ferragosto e a settembre, con la ripresa delle scuole, riportarlo al 100%. È stata dura, devo dire che gli stessi miei colleghi sindaci, ma soprattutto anche cittadini, ci hanno fatto tantissime richieste e ho sempre detto loro di avere pazienza. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra quello che è il problema della società, quindi l'equilibrio economico-finanziario della società e le esigenze del territorio. Abbiamo cercato di mettere insieme queste cose e questo ovviamente ha creato dei disagi, perché ci sono stati mesi in cui abbiamo avuto dei mancati ricavi attorno all'oltre 500 mila euro mensili, quindi vi rendete conto voi che non è facile garantire un equilibrio per la nostra società. Trasporto pubblico che è legato a corda doppia all'inizio delle scuole, su questo siamo pronti? Anche questo è un problema non facile da risolvere, stiamo lavorando molto con l'ufficio scolastico territoriale, grazie ai miei uffici e anche ai miei consiglieri, devo dire che stanno facendo un grandissimo lavoro in tutti i sensi, in tutti i settori per arrivare pronti all'apertura delle scuole, sia dal punto di vista della sicurezza degli edifici, nel rispetto delle restrizioni che sono state imposte. Penso soltanto alle palestre, al loro utilizzo anche della parte delle associazioni, non sarà sicuramente semplice perché bisogna sanificare, quindi c'è un impegno un po' da parte di tutti. Questo è collegato anche al trasporto scolastico, ci sarebbe bisogno anche qui, adesso fortunatamente non ci sono più le limitazioni dei posti all'interno dei pullman, perché a un certo momento sembrava che potessimo portare solamente circa la metà, addirittura un terzo dei posti disponibili, questo avrebbe creato un problema enorme anche nei numeri dei pullman da utilizzare, quindi devo dire che stiamo cercando di mettere insieme tutte queste problematiche per arrivare pronti al periodo di inizio del 14 settembre, in modo che i nostri ragazzi possano trovarsi su pullman sicuri, ma soprattutto su scuole, in grado di poterli ospitare in totale sicurezza. Infine una battuta sul fondo welfare, che era partito come aiuto ai bisognosi, poi era stato tramutato in aiuto per Vaia, ora c'è anche un supporto psicologico per il virus, insomma tanta carne al fuoco. Questo è un fondo che sta lavorando molto bene, sicuramente gli obiettivi erano diversi all'inizio, ma poi c'è stato Vaia e quindi abbiamo concentrato quelle che erano le risorse che abbiamo raccolto grazie alle donazioni di tutti i bellunesi, ma non solo, che hanno contribuito a una raccolta di oltre 500 mila Euro, che ne abbiamo poi distribuito a tutti coloro i quali avevano bisogno, soprattutto alle famiglie. Adesso abbiamo spostato l'attenzione al post-Covid, anche lì con una raccolta di fondi che sta andando abbastanza bene e con un supporto psicologico a chi ovviamente è in difficoltà. Devo dire che è un lavoro grosso che sta facendo il fondo con la Presidente Francesca, la dottoressa Francesca De Biasi, ma con tutta quella che è l'organizzazione che coinvolge praticamente tutte le associazioni di categoria, il mondo sindacale, la diocesi, il CSV. Devo dire che è un lavoro, il consorzio BIM che stiamo mettendo insieme e che mi auguro veramente possa essere di supporto a coloro i quali sono in difficoltà. Grazie Presidente, termina qui la nostra intervista. Io ringrazio voi per l'attenzione, arrivederci. Buonasera.